Capriata d'Orba, 1923. Questo piccolo paese è sull'orlo di una crisi atomica. Ma... C'è ancora una speranza. Ma sono io la speranza? Sì, sì, la bomba. Ma va bene, la roba è pure avanti. Ma strumenti ineguagliabili. Era l'eroe di cui avevamo bisogno. Poteva salvare il mondo. Milioni di persone credevano in lui. Il mondo era pronto per lui. Siete pronti? Io ve lo dico. Non è che sono proprio bravo a fare le cose, però ci provo, va bene. Bene, ho bisogno di un mezzo se voglio fare questa cosa. Quello è proprio il mezzo che fa il cazzo mio. Bella. Oh, quel mio 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 mio!